bentornati alla serie dedicata ai tamagotchi fans questa mia mia famiglia che ha al momento tre adulti nella versione europea abbiamo un maschio nella versione americana abbiamo una femmina e abbiamo una femmina anche nel dream town come avevo già accennato la volta precedente la mia intenzione era quella di far sposare questi due per cui andiamo a vedere a che livello è la loro amicizia perché in teoria massimizzando l'amicizia dovremmo riuscire a farli sposare come in tutti gli altri tamagotchi allora friends lui sì siamo quasi del tutto amici ci manca quel cuoricino pieno e poi potremmo sposarci allora in teoria si accettano non si sa mai dovremmo essere in grado di connetterci quattro volte ancora per oggi per cui cominciamo vediamo di connetterli un po e aumentare il loro livello di amicizia no qua sono nella parte sbagliata allora visit bump no mi sa che ho sbagliato niente riproviamoci visit bump lui sarà l'ospite tu andrai in visita connettiamo e yeah ce l'abbiamo fatta arrivi sì eccola qua vanno al parco e mentre giocano vorrei dirvi che su entrambi ho completato il cuoricino che riguarda il livello di connessioni e c'è un'animazione carina che compare quando questo succede peccato che non sono riuscita a registrarlo comunque non ero pronta all'evento per cui non l'ho registrato comunque c'è una musichetta un ballo con un altro personaggio a caso penso del gioco si baciano si era un appuntamento questo e lui è felice beh ti credo adesso per motivi di luce comunque di schermo in generale andiamo da lei visita ospite connettiamoli e andiamo da lei che si vede molto meglio sempre al parco vanno questi vabbè sull'altalena questa volta non li ho mai visti però giocare nella sabbia le volte che sono andate al parco rallentate ragazzi bravi c'è un'animazione carinissima che quando vanno sull'altalena troppo velocemente poi quando scendono hanno la testa che li gira qua ci scappa un altro bacio sì bene altre due connessioni da boss altre due connessioni andiamo sempre da lei e speriamo che almeno l'ultima sia quella buona adesso mangiano giusto dopo tanto aver giocato si mangia si fa merenda pancake ok allora controlliamo il livello di amicizia perché ormai dovremmo esserci eh sì i quattro cuoricini sono pieni per cui io mi auguro che riescano a sposarsi no dove sto andando sto facendo tutto tranne quello che dovrei fare allora ultima possibilità e qua sta accadendo eccoli qua eccoli qua che si sposano ero sicura che si poteva fare è un sì sì sembra proprio di sì da parte di entrambi no gli invitati sono sempre dei momenti un uovo due maschi sono due maschi ah adesso uno sta andando con lui sta tornando a casa con lui vediamo vediamo sì eccolo qua abbiamo due famiglie nuove cioè due cuccioli nuovi più che due famiglie nuove per cui in questo momento è ufficialmente iniziata non ufficialmente ufficiosamente iniziata la nuova generazione infatti vabbè qua compare ancora la seconda generazione che era lei questa sarà la terza e avremo un maschio e anche qua allora lui era della quinta generazione e ha avuto il figlio di sessa generazione vediamo se fanno un'animazione ho sbagliato pulsante sì anche loro sì fanno sempre quell'animazione forza bene per cui loro si sono sposati e sta per iniziare la nuova generazione tra un ora i genitori se ne andranno e mi lasceranno i piccolini e tutto ricomincerà da capo quindi adesso dobbiamo far sposare anche lei e andiamo nel posto che è dal sesto giorno di vita per cui oggi si può sbloccare il date place il posto per incontri romantici andiamo andiamo a sposarci l'ho adorata questa piccolina è veramente molto dolce vediamo primo candidato secondo candidato terzo candidato allora gli altri due ce li ho già avuti come personaggi per cui sceglierò il primo tu e gli altri sono dispiaciuti Mary? sposare? certo che sì no e anche qua parte l'animazione del matrimonio e c'è un uovo sarà un maschio o una femmina? vediamo vediamo è una femmina per cui nella prossima generazione avremo due maschi e una femmina vediamo la loro animazione speciale ah qua sta saltando per conto suo qua salta tutta la famiglia ok va bene e anche lei tra un'ora mi lascerà un po' mi dispiace perché lei è veramente carinissima mi era affiazionata tanto anche agli altri due devo essere sincera mi spiace quando se ne vanno però è il momento di fare andare avanti le generazioni perché lo scopo di questo di queste serie è arrivare alla decima generazione con questo e siamo già alla sesta fondamentalmente quando il padre se ne andrà bene tra un'ora comincerà il delirio dei bebè per cui io vi saluto vi ringrazio tantissimo per seguire queste serie commentate lasciate mi piace la prossima volta vedremo la nuova generazione in tutto il suo splendore non caricherò video fino penso a lunedì perché avrò un weekend pieno e quindi avrò altro a cui pensare fuori casa eccetera eccetera per cui vi ringrazio ancora moltissimo per la vostra attenzione vi auguro un fantastico fantastico weekend ciao a tutti